Sono oggi con Francesco Renga che tra l'altro tra alcuni giorni partirà con il suo nuovo tour 16 marzo da Brescia, il primo appuntamento. 16 marzo da Brescia a casa, quindi a teatro grande. È uno spettacolo che cerca di riproporre sul palcoscenico quella che è la filosofia del disco di Un giorno bellissimo. Nel disco ho cercato di riassumere, di fare una summa di tutte le esperienze migliori di questi, ahimè ormai, 25 anni. La band al centro di questo spettacolo e intorno un'impalcatura sonora che comprende anche l'orchestra sinfonica. Tutto questo, così come nel disco, suonato live. Un anno fa sei partito dagli Arcimboldi di Milano. Quest'anno invece hai scelto la tua città, una città dalla quale ti rifiuti di muoverti. Perché? Devo dire che per me è importante avere sempre quella certezza e quella protezione che la piccola città di provincia riesce a darmi. Finché potrò, resisterò in quella città. Il nuovo video, invece, quello appena uscito, sei andato a farlo ad Ostia. Io ho conosciuto questo regista, Edoardo Leo, che ha fatto questa opera prima, 18 anni dopo, che è stata pluripremiata. È un video molto bello che mi sta dando belle soddisfazioni perché è un video anomalo. È cinema, quindi ha una luce molto particolare, una fotografia meravigliosa, è un video molto intimo e che racconta bene quella che è l'idea, il centro di quella canzone, di Per Farti Tornare. Il tuo ultimo album ha un titolo abbastanza particolare, Un giorno bellissimo, in riferimento preciso a che cos'è? È la voglia di costruire quotidianamente quella felicità che ci è concessa, di costruirsi giorno per giorno anche una storia importante d'amore che non è sempre fatta di momenti di liaci, di passione, di baci, è fatta anche di un lavoro quotidiano di sacrificio, di impegno, di cesello, sul smussare gli angoli, cercare di confrontarsi con la persona che ama e cercare di vedere la propria vita attraverso gli occhi delle persone che hai intorno e delle quali ti sei, come dire, impegnato a prenderne cura. Quando uscì l'album precedente, Orchestra e Voce, tu mi dicesti che avevi selezionato tantissime canzoni, ovviamente scelte solo una piccola parte. Questo vuol dire che prima o poi ci sarà un seguito di quel progetto o è finito? A me piacerebbe moltissimo, piacerebbe moltissimo anche perché poi si è rivelato un progetto molto fortunato. Ci sono molte canzoni che vorrei interpretare ancora e devo dirti la verità che io ogni tanto me ne appunto qualcuna su un tacquino e prima o poi un'altra. Hai duettato con Emma e con i Modà. Tra l'altro Checco, il cantante dei Modà, ha dichiarato ufficialmente se fosse di peso da me avrei fatto cantare la canzone soltanto a Renga. Queste cose fanno ancora piacere? Fanno molto piacere anche perché queste sono le nuove leve. Io se ho un piccolo blasone, un fregio del quale mi piace appunto ornarmi il petto è quello di avere all'inizio di questa carriera. Ho aperto la strada a tutta una tipologia di band che avevano al centro comunque cantanti di un certo tipo. Noi eravamo i pulcini di quel movimento che era il rock italiano di fine anni Ottanta con i Timoria, però ci siamo stati quelli che hanno forse più di altri caratterizzato quel tipo di proposta artistica. Quindi cantanti come Checco, come Giuliano Enegramaro, come Francesco delle Vibrazioni, devono molto a quel periodo, a quegli anni e a quel tipo di proposta che facevamo con i Timoria. E quindi questo ovviamente mi riempie di orgoglio, insomma, dopo tutti questi anni mi fa piacere che qualcuno se ne accorga. Ciao, sono Francesco Renga, questo è il mio saluto a tutti i lettori e gli amici di Max. Ciao.